E questi festival culturali sono una delle cose belle dell'Italia di oggi, sono una delle poche cose che mi fanno dire beh da quel punto di vista l'Italia di oggi è meglio di quella di 30 anni fa, no? Ecco, perché per tutto il resto esiterei a dire che siamo migliorati. Però vedere che tante piccole città italiane, perché il set tipico è una piccola città, carica di storia, carica di identità, che si inventa dal nulla, poi per carità a Gubbio le radici medievali sono evidenti, magari a Modena quelle della filosofia un po' meno, no? o a Trento quelle dell'economia e invece tante città che si creano questa iniziativa, questa occasione per attirare gente, per farsi conoscere e per stare a discutere qualche giorno di cose serie, di cose serissime, con la gente che riempie le sale per venire appunto a sentire parlare in questo caso di storia medievale, io trovo che è un bel sintomo, diciamo, del fatto che il nostro paese culturalmente è più vivo di quello che a volte ci sembra. In Italia si studia tutto poco, perché nel mondo ormai è prevalso quest'idea bislacca del primato dell'economia, dell'utilità, eccetera, per cui dilaga anche quest'altra idea bislacca, per cui sapere le cose non serve a nulla e magari addirittura dannoso, mettendo insieme queste due idee totalmente cretine, il risultato è che la gente smette di studiare, non studia se non sa nulla e oltretutto il fenomeno nuovo se ne vanta, perché la gente è sempre stata ignorante, ma noi assistiamo in questo momento al vanto anche fatto da politici, noi rappresentiamo gli ignoranti, una volta gli ignoranti si cercava di aiutarli a diventare un po' meno ignoranti, invece adesso no, perché naturalmente sull'ignoranza si fondano le carriere. Ora, siccome noi non abbiamo carriere da affondare, non vogliamo arrivare da nessuna parte, non vogliamo nulla che non sia imparare un po' e magari anche divertirsi, probabilmente l'uovo di Colombo è stato questo, smettiamo di parlare del Medioevo, come si è parlato per molti decenni, come di un fatto che si studia nelle scuole, e poi si raccontano le cazzate, tipo il Medioevo oscuro, il Medioevo ignorante, il Medioevo pieno di roghi, pieno di stregonerie e di altre cose, e studiamo invece questo periodo che noi da un lato guardiamo come un altrove assoluto rispetto alla modernità e dall'altro evidentemente forse aveva qualche ragione Jung quando diceva che dentro di noi c'è sempre un altrove. Noi al Medioevo, io dico noi perché ci sono con Fioravanti e gli altri un po' dall'inizio, ma io non ho nessun merito nella nascita di tutto questo, non riesco a organizzare nemmeno la mia vita, figurarsi se riesco a organizzare una cosa come il Medioevo di Gubbio, però evidentemente noi gruppetto di medievisti, magari forse un pochino atipici per certe cose, ma che non abbiamo niente di diverso dai nostri colleghi, che magari almeno per il momento non stanno a giocare con noi, abbiamo avuto quest'idea, perché non lo apriamo in un modo diverso da come viene spiegato nelle scuole, questo è tutto.